Questo furto dice questo, che non hanno paura di niente, né del centro né delle persone. Ancora una volta via Crispi nelle mire dei ladri, già colpita più volte nel recente passato. Un altro colpo è stato infatti messo a segno nella centralissima via, stavolte danni del locale gli ostinati. Alcuni banditi, dopo aver tagliato una recinzione, si sono introdotti all'interno del locale nella notte tra sabato e domenica, forzando la serratura della porta sul retro. Noi siamo chiusi alle 2, alle 8 eravamo qui, uno di noi era qui. Era già successo, non so se alle 3, se alle 4, se alle 5, però dalle 2 alle 7. Abbiamo aperto la mattina dall'ingresso, abbiamo trovato tutti i soldi, tutti, un po' di spiccio in terra e la porta aperta, la tenda tirata. Hanno forzato la porta sul retro? Lì sono entrati e hanno preso la cassa. Ci hanno fatto la cassa e poi avevamo le mance dei ragazzi, un salvadanaio con le mance dei ragazzi e hanno preso quello. Proprio o meno il bottino a quanto si agisce? Un miliardo di euro, 1100 e roba del genere. Qui abbiamo trovato tante sigarette come se fossero stati appostati, qui probabilmente sono rimasti tante ore durante la notte. Si presume perché c'erano tante sigarette qui come se ci fosse stato un appostamento. Ci sento anche osservati un po'? Brava, sì, molto osservati, molto. In corso le indagini da parte dei carabinieri.